Salve ragazzi in questo video vi porterò un metodo per rispondere batteria sui dispositivi con schermo con display Super AMOLED la maggior parte dei dispositivi Super AMOLED li produce Samsung, i principali sono S3, S4, S5, la serie A e notri Samsung quindi vi spiegherò appunto come rispondere batteria con un metodo molto semplice ed efficace praticamente basterà mettere uno schermo nero, voi vi chiederete perché uno schermo nero ci fa rispondere batteria beh nello schermo nero ci fa rispondere batteria perché praticamente il display Super AMOLED riproduce i neri con pixel spenti quindi potete rispondere batteria, questo è valido anche per i tablet accertatevi prima che il vostro display sia Super AMOLED mettete uno sfondo nero e vedrete che i risultati saranno buoni si sparmierà comunque una buona percentuale di batteria, certo non farà miracoli però è un piccolo accorgimento quindi invito a provare questo, mettere un bel mi piace e ciao a tutti